In Lombardia, Parazzo Pirelli, la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome. A partecipare anche Carmine Cicala, presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Presidente Cicala, qual è la sua visione sull'autonomia differenziata? Un argomento oggi molto in auge, molto discusso su tutto il territorio nazionale. Abbiamo visto che anche il Parlamento con le varie forze politiche ne discutono ed è giusto che anche le regioni, le assemblee regionali possano prendere contezza e portare avanti queste discussioni in modo tale da poter dare delle risposte non solo a tutte le forze politiche ma anche e soprattutto ai cittadini che cercano di capire in questo momento storico esattamente cosa possa e cosa voglia significare questa autonomia differenziata. L'autonomia differenziata avvantaggerà le regioni più ricche del nord a discapito di quelle del sud? Non credo, tutto dipenderà da come verrà affrontata la situazione e in che modo e su quale materia si agirà. Questa sarà la vera differenza e qui ci sarà il vero dibattito da affrontare. L'autonomia differenziata porterà quindi vantaggi anche alle regioni del sud? Sono convinto che opportunamente elaborata e studiata anche noi come regione del sud abbiamo delle grosse potenzialità basti pensare a cosa si può fare rispetto a tematiche quali il petrolio che è proprio della mia regione come tema molto caldo e quello che può essere anche sul tema acqua quindi la risorsa energetica molto presente anche sempre sul territorio lucano e poi sono tanti altri temi scottanti come la sanità eccetera quindi credo che dando un giusto risalto e studiandolo opportunamente possiamo di fatto responsabilizzare non solo la parte politica ma anche la parte dirigenziale che possa prendere effettivamente contezza della situazione e farsi carico di quelle che sono le istanze dei cittadini. Grazie. Grazie.